Buongiorno a tutti, grazie a Stichero, a presentanti di media e agli amici che ci accompagnano. Noi avrete detto questa puntata di Sassauro per restituire al pubblico il lavoro dell'associazione che siamo fatti dalle tre esercitutive associazioni di qui in Brasso del Piano e noi abbiamo fatto una modalità differente per fare collaborazioni. Allora, presento Alcaldita, avvocato, rappresentante dell'associazione di studi politici sull'immigrazione, Denise Graff, coordinatrice del Brasil per la settore Svizzera di Anissima Rieschmeier. L'associazione che io rappresento, FIERDUS, è una situazione che è una operazione di tipo umanitario e con questo intento ci siamo recati a Fumo per vedere quello che stava succedendo. Da subito però è apparso, abbastanza chiaramente, che c'erano delle cose che non andavano bene. Tante persone dicevano che avrei voluto chiedere l'asilo alla Svizzera di essere state rispunte. E questo ci ha portato a focalizzare la nostra attenzione da un lato sì ad aiuti umanitari, ma anche a quelle che erano questi sfuggimenti che inizialmente definivamo come non contorni. Per poter valutare, se questa cosa che le persone dicevano fosse vero o due no, è stato fatto un monitoraggio che dura tre settimane, inizialmente in maniera non più informale, poi a partire dal 4 agosto in maniera ristrutturata. La formazione che si trova a Fumo, che è a Fumo il numero che è andato ogni tanto professionalmente a partire dal 4 agosto fino ad ottenere più o meno di 500 unità di persone con variazioni in scuola degli autobus che rimangono verso Tarno, verso l'Italia, è una sorta di ricomposta, una unità di maggioranza, per persone provenienti dal Corno d'Africa. Parliamo almeno del 80% delle persone che si trovano a Fumo. Sono persone che hanno affrontato un lunghissimo viaggio, che spesso hanno soggiornato nei campi profughi dell'Etiopia o del Sudan, hanno attraversato dei rapporti in condizioni davvero difficili, c'è chi ha raccontato di aver raccontato questo viaggio, attraversando tutti i giorni nel deserto del Sarara, vedendo acqua all'alberto con benzina, per sopravvitarle per le persone che vedono troppo. Tra l'altro ci sono persone che ci hanno raccontato, ne ho sempre detto, amici e parenti, durante questo viaggio. Sono persone che una volta superato il deserto sono state spesso dudamente ragionate nelle persone libiche e che presentano segni di tortura, di stress post-traumatico, piaghe, fratture. Questo è quello che dal punto di vista umanitario non semplice, davvero toccante anche per chi ha vissuto già l'esperienza dei campi profughi in altri luoghi. Quello che abbiamo fatto è stato cercare di comprendere le ragioni per cui le persone che sostenevano di poter depositare la domanda da Sile in Pizzera venivano comunque remesse in Italia attraverso questa revisione semplificata. Abbiamo abituato quindi inizialmente dei gruppi, perché questo monitoraggio è stato il 31 luglio, e il primo gruppo di persone che è andato verso la frontiera è stato un gruppo di persone di varie età per ci vedere di fare in giudizia. La quale, in totalità di loro, sono stati inviati a nulla. C'è stato quello che è difficile dare i numeri precisi delle fasi del monitoraggio che non sono state estrettamente controllate e in questo caso parlo di 44 casi seguiti proprio con i numeri dei valenti. In altri casi, il rischio che le persone non ci dessero un ripeto, che ciò che fossero trasferite altrove o che potessero accedere alla Pizzera fa sì che non vi possa dire che erano 19 persone che sono state accoglie a 17 due respite. Allora, questo primo gruppo è stato interamente respinto a parte di una sola persona che era una ragazza minorenne che riusciva a tenere dei valenti in Svizzera e era chiaramente inserito, avendo un ginocchio colpito da una granata in una prigione vivica e questo è stato l'unico di questo primo gruppo a essere ammesso alla procedura di ammino in Svizzera. Sì, perciò, il primo gruppo che si è recato alla straniera era un gruppo che sostengono una vera e una macchina in Svizzera che si è recato in pieno diritto di depositare la propria prima domanda in Svizzera. Anche in questo caso, gran parte di loro sono stati testuti. Il 2 agosto, quindi, abbiamo parlato unicamente degli norelli non accompagnanti che sostengono le valenti in Svizzera. Anche in questo caso, sul gruppo, soltanto una o due persone che erano state ammesse alla procedura assieme. A partire da questo momento abbiamo fatto una ricerca sistematica dei parenti che avevano in Svizzera. Valentele che attraverso il numero di telefono, quindi attraverso WhatsApp, Svider e social media, li abbiamo contattati chiedendo loro di rimandarci una copia fotografica del loro pubblico di identità e un'interazione che conoscevano nella persona che si trovava con un parente. in questo modo abbiamo potuto monitorare 44 persone di cui 26 adulti con due bambini in seguito e 15 norelli non accompagnati. Una volta che queste persone producevano questo tipo di documentazione di una sofficienza stampata accompagnata da un'autodichiarazione di un'autodichiarazione di un'autodichiarazione della Svizzera e della Svizzera e della Svizzera e delle persone andavano verso la frontiera. Una volta che questo lavoro è iniziato abbiamo, posso dire che oggi che dei 27 adulti seguiti 12 adulti sono stati ammessi in Italia di cui 3 con un concetto rifugiato dell'altro pensariato per i rifugiati. Perché abbiamo monitorato oltre a quel chiedevo una familiare che chi poteva produrre una carta di rifugiato oppure una documentazione comprovante alla persecuzione. 13 adulti e 2 milioni e sempre sono stati 10 ammessi alla procedura a SEM. Di 2 adulti non le abbiamo imputite. Dei minori non accompagnati da un gruppo di 15 11 sono stati ammessi alla procedura a SEM tutte persone che erano state precedenti l'interzo l'interno che fanno 5 volte due sono stati sicuramente respinti e uno di loro è stato respinto verso Tarno e due di cui non abbiamo più notizia. Trovo che sia particolarmente grave che il fratello di uno di questi lo stia ancora cercando. Cioè io chiedo a lui a notizie di un fratello lui chiede a me ma non ne ho come sapere qualcosa. A partire da questa vulnerabilità della popolazione che abbiamo incontrato a Como e a partire appunto da questi respingimenti che ci apparivano non conformi poiché tra tutta una serie di ragioni che adesso Anna vi spiegherà l'individuo d'asilo deve essere garantito a chi chiede protezione internazionale e credo che questa è la possibilità di persone che noi siamo tutti è iniziata una collaborazione da prima a Proganosi e poi con Amnesty International che appunto a loro volta hanno fatto un momento di coraggio con una realtà differenzi di quali adesso mi daranno reso conto. Grazie.